Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, in A12 code per lavori tra il Bibio Lucca Viareggio e Versilia. Sulla Fipili 2 km di coda in entrambe le direzioni per lavori tra la Strassigne e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo inoltre che è sempre per lavori. È chiusa fino alle 18 l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Mare. In direzione Mare per traffico intenso code in uscita a Lastra Assigne. E in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Su raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga in direzione Bettolle. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!